Problema, ci sono 780 euro pro capite da far arrivare a circa 6 milioni e mezzo di italiani. Ma come rogarli? La soluzione la dovrà trovare il governo entro il primo aprile 2019, quando, secondo gli annunci del vicepremier Di Maio, entrerà in vigore il cosiddetto reddito di cittadinanza. Diverse le ipotesi allo studio. Versare gli importi su un conto corrente fornito dalla vente diritto? Caricarli su una app per il cellulare con un borsellino elettronico che scala gli importi di ogni spesa? Creare una nuova social card? Pare questa l'ipotesi più probabile. La digitalizzazione del procedimento, infatti, è una necessità per l'esecutivo, visto che il reddito di cittadinanza, stando al viceministro per l'economia, Laura Castelli, dovrà finanziare solo alcune tipologie di acquisti chiaramente tracciabili, per capire se i soldi concessi vengano utilizzati per acquistare beni primari, ad esempio alimenti o medicinali, o voluttuari, come gioielli o gioco d'azzardo. Anche se alcune categorie restano più sfumate, pensiamo agli elettrodomestici. Una lavastoviglie è un bene primario? E un televisore? E uno scalda biberon? Resta poi ancora da identificare, con precisione, la platea dei beneficiari. Al momento si parla di persone sotto la soglia di povertà definita dall'Istat, con un reddito mensile di 780 euro. Ma la Lega vuole introdurre criteri più stringenti, guardando al patrimonio complessivo degli eventi diritto. Ribaditi i vincoli per ottenere il sussidio. Bisognerà impegnarsi in un percorso di formazione professionale, prestare otto ore di lavoro a settimana nel proprio comune di residenza e dimostrare di aver valutato le offerte di lavoro che potrebbero giungere. Dopo il rifiuto immotivato di tre offerte, decade il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza.